Non solo costa e mare, ma anche montagna e laghi sono il cuore pulsante dell'offerta turistica del nostro territorio, senza intaccare l'equilibrio naturale grazie ad una gestione consapevole e coordinata del territorio. A dirlo sono i risultati presentati da Goletta, dei laghi di Legambiente, che ha monitorato nell'ultimo weekend i laghi di Fiastra e quello delle Grazie di Tolentino, due specchi d'acqua incastonati nel verde dell'Appennino Marchigiano, sempre più spesso meta di visitatori e vacanzieri che possono trovare in questi luoghi un'offerta ricca alternativa alle spiagge e acque pulite. Le acque del Fiastra sono state campionate presso la foce del canale sulla spiaggia Verde Fiastra e hanno confermato lo stesso risultato positivo dello scorso anno, mentre per il lago delle Grazie di Tolentino il monitoraggio è avvenuto quest'anno per la prima volta e ha interessato lo sbocco di un torrente in località Le Grazie, punti solitamente critici. Perché andiamo lì? Perché cercare di capire se ci sono problemi di scarsa depurazione, di scarichi abusivi e solo in questo modo riusciamo a capire da dove proviene questo eventuale inquinamento. A partecipare al monitoraggio quest'anno, anche il CSV Marche, il centro di servizi per il volontariato, con il progetto Centro insieme per le terre del sisma, per rafforzare la coesione sociale e territoriale nelle aree martoriate dal terremoto in un'ottica di sostenibilità. È una forma di turismo sostenibile quella dei laghi che abbiamo nel nostro appennino, quindi tenere sotto controllo sia per monitorare ma anche per raccontare le opportunità che questi luoghi danno dal punto di vista del turismo sostenibile per noi è un'occasione da prendere al volo e che cerchiamo di raccontare sempre di più. Un patrimonio di natura, storia e cultura da valorizzare attraverso la sua salvaguardia per il ruolo che svolge per l'ecosistema e per il rischio idrogeologico. Ci sono degli aspetti che vanno a colpire la società in generale, non ha un colore politico, bisogna soltanto che ci si metta in testa di fare delle opere che costano e che lo Stato e la Regione ci dia la possibilità di attuarle.